Continua il lungo silenzio social di Chiara Ferrer. Tornata dalla vacanza a Dubai fatta con i figli, ormai due settimane fa, l'imprenditrice digitale è scompassata. Tornata dalla vacanza a Dubai fatta con i figli, ormai due settimane fa, l'imprenditrice digitale è scompassata. Poche tracce di lei si trovano sui profili social della mamma e delle sorelle, che in questi giorni difficili non la lasciano mai so. Se qualche giorno fa era stata sua madre a pubblicare uno scatto della figlia abbracciata e due nipotini, adesso è la sorella Valentina a mostrare un ritratto. Ieri Chiara è tornata con le sorelle e la mamma a Cremona, dove sono nate e cresciute. La foto scattata dalla più piccola di casa le ritrae in tribuna allo stadio, a vedere la cremonese squadra. Ieri Chiara è tornata con le sorelle. L'imprenditrice digitale sembra sottotono, con un sorriso appena accennato, ma la vicinanza delle persone più importanti della sua vita, insieme ai figli, sono senza alcun dubbio un gran... L'imprenditrice digitale sembra sottotono, con un sorriso appena accennato, ma la vicinanza delle persone più importanti della sua vita, insieme ai figli, sono senza alcun... Dopo la partita Chiara Ferragni è andata a casa del papà, che ancora oggi vive a Cremona, e hanno trascorso un po' di tempo insieme, giocando con la piccola...